E' molto cruda per noi l'analisi della partita perché questa volta i numeri qualcosa dicono, perché è vero che abbiamo preso più rimbalzi, è vero che abbiamo fatto più tiri e abbiamo una valutazione maggiore. Il problema è che in attacco non abbiamo giocato bene, per niente, e da qui sono scaturite 19 palle perse e loro da palle perse hanno segnato 23 punti. In una partita poi finita al photo finish, dove noi il percentuale di tiro non ci ha premiato e quindi ci aggiungiamo un surplus negativo, l'abbiamo pagata cara. Quindi avremmo dovuto sicuramente giocare meglio in attacco ed evitare palle perse, onestamente banalissime, non causate credo dalla loro difesa ma dalla nostra un po' approssimazione, non so cosa dire, perché quando passiamo la palla in un posto dove non c'è nessuno è difficile poi da commentare. E la chiave è stata qua, 23 punti da palle perse e subiti. Questa credo sia la chiave della partita, l'abbiamo pagata cara. Ma guarda, se vogliamo trovare un lato positivo è che noi siamo sempre stati lì, nonostante in attacco abbiamo giocato per lunghi tratti male e con una miride di attacchi fatti male e quindi conseguentemente poi di molte palle perse, sicuramente troppe, che hanno dato loro il vantaggio, siccome sono una squadra che lo sappiamo, che predilige ritmi alti, che deve andare in campo aperto, che perdi 19 palloni e loro 19 volte vanno in campo aperto. E noi abbiamo subito 23 punti, che su 19 perse non sono nemmeno tanti, ma ovviamente hanno ucciso la partita. Partita comunque, punto a punto, sempre questo credo abbia fatto la differenza, in negativo per noi. Loro cambiavano molto spesso con la loro difesa uomo, come avete visto, e noi ci fermavamo a guardare i cambi, a cercare di attaccare i cambi, ma fermavi la palla, loro si riaggiustavano e avevi perso qualunque tipo di vantaggio. Quindi noi avremmo dovuto essere, come forse lo siamo stati un pochino di più nel secondo tempo, più fluidi, sicuramente in attacco, e soprattutto cercare di eseguire i giochi che noi abbiamo. Eseguire, poi quando un gioco non paga, te ne accorgi, lo esegui, te ne accorgi, non lo chiami più, fai qualcos'altro. Non abbiamo mai eseguito come avremmo dovuto. E secondo me nemmeno troppo per la loro difesa, ma perché noi ci siamo un po' troppo... Non so nemmeno io. Rallentati, ripeto. Loro sì, è vero, facevano questi cambi difensivi, ma... Il vantaggio alla fine lo trovavi sempre. Fermando la palla e chiamandomi in vento pugno, e poi c'era uno che andava per conto suo perché pensava di avere una buona idea. Abbiamo fatto solo dei disastri. Questa è la verità. Ripeto, in una partita poi alla fine è finita per un canestro, per due canestri, per un episodio. Boh, analizzarla in modo più sereno forse mi viene meglio domani o dopodomani, ti dico la verità. L'aspetto positivo è che in una giornata negativa al tiro, e negativa in attacco, comunque abbiamo perso l'ultimo tiro. Quindi non ci siamo mai, fra virgolette, buttati giù e mollato o qualcosa del genere. Questo no. Ci serviva sicuramente un pochino più di testa, anche perché ne abbiamo parlato per una settimana. Loro hanno un certo ritmo, che è quello. E noi non dovevamo andare a quel ritmo. A momenti ci sta, a momenti no. Abbiamo fatto un po' di confusione. Ripeto, il problema è stato questa volta offensivo. Ci siamo tanto lodati nei giorni scorsi del nostro attacco e credo sia stato offensivo il problema. Infatti non parlo più. No, scherzi. No, offensivo... Sto scherzando, parla vero così. Il problema offensivo è riferito alle palle perse. Se passi la palla in un posto dove non c'è nessuno... Mi ricollego a quello fatto prima. Se ti fermi un attimino, perché ti sembra di avere un vantaggio, ci inceppiamo tutti e non andiamo da nessuna parte. Oggi la fluidità non è stata dalla nostra parte. Sicuramente abbiamo delle responsabilità. Ti dico la verità, questo un pochino era anche messo in preventivo, perché come avete visto loro hanno lunghi di 2.10, hanno esterni di 2.6, 2.8. Forse sono la squadra più alta del campionato. Quindi trovare vantaggi da quel punto di vista non sarebbe stato molto facile. Sarebbe stato meglio muoversi meglio e con più razziocino in attacco, quello che abbiamo detto prima, quello sì. Sì, diciamo che non era questa la partita dove lì avremmo trovato dei sicuri vantaggi. Mettiamola così. Grazie.